E' stata rinviata al 18 novembre prossimo per un problema tecnico procedurale. L'udienza davanti al GUP del Tribunale di Pescara relativo al procedimento BIS sulla mega discarica di rifiuti tossici rinvenuta nel marzo del 2007 a Bussi sul Tirino. Nello specifico il rinvio è stato determinato dalla mancanza del giudice titolare del procedimento Maria Carla Sacco attualmente in servizio presso un altro tribunale. Ad occuparsi del processo sarà il GUP Maria Michela di Fine. Ci dovremmo ricostituire parte civile perché lo snodo, il processuale essenzialmente è nuovo e si riparte essenzialmente da capo, da come avevamo lasciato il processo circa ormai tre anni fa. E' un problema di tempi, chiediamo una sollecia definizione di questa che è una fase soltanto preliminare. Io oggi rappresentavo l'Avvocatura dello Stato che è già costituita come Ministero dell'Ambiente e si costituirà anche il nome per conto del Ministero della Salute. Nel procedimento che è uno stralcio di quello principale risultano coinvolte cinque persone per lo più ex vertici di H e Ato. All'esterno di Palazzo di Giustizia erano presenti questa mattina alcuni esponenti del Forum abruzzese dell'Acqua che hanno distribuito volantini. Innanzitutto per confermare il nostro impegno per l'acqua e l'Abruzzo che inizia dal 2000 e continuerà fino a quando questo problema non sarà risolto. Secondo per ricordare a tutti quanti che 700.000 persone hanno bevuto dell'acqua inquinata che c'erano delle persone preposte negli enti pubblici che non hanno fatto il loro dovere nel senso che non hanno dato informazione, non hanno dato nessuna trasparenza e come ha detto anche l'Istituto Superiore di Sanità è stato proprio questo che ha permesso l'arrivo di quest'acqua inquinata anche nelle catene alimentari. Per noi il discorso è sempre lo stesso, la vera giustizia e la bonifica del territorio per cui occorre stabilire rapidamente chi è colpevole e chi è innocente e non si può tollerare un'altra udienza preliminare che dure tre anni come fa questo processo. Ci auguriamo che questa volta si sia un pochino più rapidi.